www.orobie.it Alberto Locatelli, buongiorno. Buongiorno a lei. Realizza delle foto particolari dall'alto, che vedremo nel numero di marzo di Orobie, dove ha realizzato un bel servizio sul Grignone. Come è nato? Niente, questo servizio è nato un po' innanzitutto per la passione alla fotografia e la passione anche logicamente alla montagna. Io sono nato a Mandello dell'Ario, per cui proprio i piedi del Sasso Cavallo e della Grigna, per cui ogni mattina che mi alzavo, la prima cosa che facevo era di osservare la Valle Mere, il Sasso Cavallo e poi la Grigna. E da lì è nata la passione sia per la montagna, sia per lo sci, per lo sci alpinismo, per la roccia e poi successivamente per la fotografia. E tu realizzi queste fotografie con l'elicottero, quindi da una prospettiva totalmente inusuale. Beh, diciamo che non è che strettamente io posso usare l'elicottero perché logicamente avendo dei costi veramente alti di noleggio, se riesco prima vado a piedi dove è possibile. Nasce l'esigenza di fare dei voli per avere delle prospettive completamente diverse, logicamente per lavori su commissione perché purtroppo non posso permettermi di noleggiare quando voglio un mezzo del genere. Però questo è diventato un po' il tuo marchio di fabbrica, insomma, sei specializzato in questo tipo di immagini. Sì, esatto. Questo grazie anche, diciamo, a un'esperienza che io mi sono fatto negli anni scorsi di circa vent'anni che ho fatto nel soccorso alpino. Per cui ai tempi quando c'era ancora Daniele Chiappa, che è stato uno dei fautori così dell'evoluzione delle nuove tecniche di soccorso, io avevo partecipato con lui a questa ricerca delle nuove tecniche e già allora facevo, parlo di circa vent'anni fa, facevo, diciamo, tutta la documentazione fotografica e video delle prime di questi esperimenti. E da lì mi sono così appassionato al proprio al volo vero e proprio, in modo tale che con l'andare degli anni, un po' grazie al soccorso, un po' grazie, diciamo, all'evento, avevo la necessità di avere queste immagini così un po' particolari, mi sono sempre così, ho sempre migliorato, diciamo, la tecnica di ripresa aerea. Le tecniche, appunto, dall'alto sono molto diverse? Le tecniche, diciamo, non tanto le tecniche, ma sono, diciamo, in parte sono completamente diverse, ma non peraltro, visto i costi che ha, diciamo, di noleggio di una macchina del genere, prima cosa è un servizio da fare, farlo nel più breve tempo possibile, secondo non si può sbagliare, perché vorrebbe dire sbagliare. Non hai un'altra occasione. Poi avere un occhio molto rapide sulla visione, scegliere le inquadrature, solitamente l'elicottero non lo faccio mai fermare, perché vado incontro a dei problemi tecnici proprio di vibrazione, di stallo, secondo, logicamente, della località dove siamo, se poi c'è vento è ancora peggio, per cui sta a me un po' la capacità di cercare di sfruttare tutti, non i minuti, ma i secondi a mia disposizione e cercando di catturare così le immagini più suggestive. Cosa vedi da lassù? Allora, vedi da lassù, sono dei paesaggi meravigliosi, sono delle visioni che comunque sono inusuali e che veramente se uno non prova non si rende conto. A me piace tantissimo proprio condividere, cioè quello che vedo io mi piacerebbe condividere con tutto il mondo, perché auguro a tutti di vedere queste immagini particolari con un'angulazione completamente diversa. Ho avuto anche la possibilità di volare quasi fino a 7000 metri, senza ossigeno, diciamo un po', tra virgolette, un po' rischiando, però devo dire che da quell'altezza… Dove hai volato? Diciamo, ho volato su tutto il triangolo lariano, per cui per un lavoro, per un'esecuzione di cartine topografiche e tipografiche e cartografia. Ho fatto tutto il triangolo, per cui da zona di Bellagio, Lecco e Como, poi tutta la parte centrale del triangolo lariano. E poi ho fatto anche tutta la zona del Monte Rosa e il Cervino e tutte le valli della Val Saint-Varange, Val di Gressonei e Val di Cervigna. Nel tuo lavoro, in questo tipo di lavoro, si mischiano molto bellezza, un aspetto artistico diciamo, o invece un aspetto di grande precisione appunto? Sì, bellezza perché sono sempre così alla ricerca di questi posti, diciamo, meravigliosi. Devo dire che tante volte dall'alto veramente ogni angolo è un angolo completamente diverso. Cioè noi qua siamo abituati, non so, a fare magari lo stesso tragitto, vediamo sempre le stesse cose. Beh, la mia ricerca è quella proprio che, grazie anche al volo, ma anche da terra, cercare diciamo quelle visioni che comunque non sono inusuali, perché ho imparato diciamo con gli anni a scoprire che magari una persona passa 50 volte al giorno, ma io mi metto un'angolazione diversa, la faccio vedere, ma io non l'ho mai visto così. Adesso basta cambiare un po' i punti di vista dell'angolazione e questo è un po' il bello, diciamo, della ricerca per vedere le cose sotto un punto di vista diverso. Grazie ad Alberto Locatelli che appunto ci ha insegnato e anche sul giornale, sulla nostra rivista, vediamo queste immagini che non avremmo un'altra occasione di vedere, perché nemmeno con le nostre gambe, nemmeno se arrivassimo in cima. Grazie Alberto e grazie a voi. Grazie. Grazie.